Sì, chi si registrava così? Chiarato l'ho mandato stamattina a letto, ma lo sconissimo Oggi non si può fare qualche foto? Vai capizzo? Sì Ma che è tutto? No Dello con Giacomo Ma le c'è la mascherina che la mette è qui Mi mamma, mi posso dimenticare se fa l'anno scorso? Perché hai per la via? No 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 Ma qua Il primo Fabio È un balsamato 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 È un balsamato